In Cristo siamo salvati. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Oggi nella liturgia ricordiamo il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. E lo celebriamo con il Vangelo secondo Marco, capitolo 14, dal 12 al 26. Il primo giorno degli azimi, quando si molava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa Il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono ed entrati in città Trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro Questo è il mio sangue dell'alleanza Che è versato per molti. In verità io vi dico Che non berrò mai più del frutto della vite Fino al giorno in cui Lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno Uscirono verso il monte degli olivi. A me Cari amici, oggi Accogliamo queste parole dell'ultima cena Nel Vangelo secondo Marco Come anno B Vediamo un gesto totalmente nuovo Innovativo Gesù manda i discepoli A preparare una sala E a Gerusalemme Sta celebrando Una Pasqua insieme a loro Per noi diventa la Pasqua Un rito Ma soprattutto Un memoriale ebraico In ricordo di come Dio Aveva salvato il popolo di Israele Dalli egiziani Dalla schiavitù Ma in quella sera In un modo improvviso Nuovo E ripeto innovativo Dona una novità Cioè Parla Parla Del pane Che sta mangiando E che offre loro Dicendo Questo è il mio corpo Parla del vino Che prima fa loro bere E poi dice Questo è il mio sangue Dell'alleanza Noi siamo abituati Ad ascoltare Questi discorsi Tutte le volte Che facciamo l'Eucarestia La cena del Signore Ascoltiamo queste parole A volte ci riflettiamo Altre volte no Può diventare anche una routine Eppure quella sera Quella unica sera Nella storia Dei discepoli E della nostra Chiesa Gesù Ha pronunciato queste parole Prendendo Il pane Che di per sé Non aveva un significato Particolare Se non Il pane Azimo Azimo Perché Non c'era il tempo Di farlo lievitare Il popolo di Israele Doveva partire Velocemente Dalla scavitù Dall'Egitto Ma Gesù Prende il pane E dice Questo è il mio corpo È una novità Assoluta Ogni volta Che ascoltiamo Queste parole Dovrebbero venirci I brividi Pensate Perché Gesù dice Mangiatelo Fate questo In memoria di me La prima lettera Ai Corinzi Lo ripeterà Ancora più precisamente Tutto questo Così come Prese il calice Lo diede loro Ne bevvero E dopo Che lo hanno bevuto Dice Questo È il mio sangue Dell'alleanza Che meraviglia Fratelli e sorelle Il vino In quella sera In questo rito Composto da varie parti La cena ebraica Doveva rappresentare Soltanto Un momento Noi potremmo dire Quasi di brindisi Una celebrazione Di una solennità Un brindisi Perché Dio Era intervenuto Nella storia Di Israele E dell'uomo Ma Gesù Cambia Quell'elemento Dicendo Questo è il mio sangue Cambia il pane Degli azimi Dicendo Questo è il mio corpo È una novità Assoluta Fratelli e sorelle E abbiamo La possibilità Di farlo Nelle nostre chiese Nelle nostre comunità Pensate che meraviglia Spesso Lo assolutizziamo Prendendo solo Alcune parole O un rito Ma in realtà È una realtà Pienamente Ed essenzialmente Comunitaria Coinonica Guardiamo Il Vangelo Secondo Giovanni Che a differenza Dei sinottici Non parla Durante l'ultima cena Giovanni 13 Di questo fatto Del pane E del vino Perché ne ha già parlato In Giovanni 6 Dopo la moltiplicazione Dei pani Gesù dice Io sono il pane vivo Chi mangia di questo pane Avrà la vita eterna E chi scrive È il discepolo amato È Giovanni Che era presente Nell'ultima cena Stranamente In Giovanni 13 Durante l'ultima cena Giovanni In un modo deciso In un modo Intenzionale Omette Questo fatto E inserisce Soltanto La lavanda Dei piedi Culmine Del comandamento Nuovo Amatevi Gli uni gli altri Da questo Sapranno Che siete I miei discepoli Se avrete amore Gli uni dagli altri Mettiamo insieme I sinottici Con Giovanni L'Eucaristia La cena del Signore Non è altro Che Un'esperienza Di corpo di Cristo Un corpo Di salvati Quanto è importante Non slegare Il rito Le parole Il gesto Dalla realtà Comunitaria Ecclesiale Dall'amicizia Dallo stare insieme Dal radunarci Come all'inizio Negli atti E degli apostoli All'inizio Della prima chiesa Si radunavano Nello spezzare Il pane Nell'insegnamento Fraterno Oggi siamo chiamati A ritornare A questo La salvezza In Cristo Che si è donato A noi Che è cibo Per ciascuno Di noi Che siamo Un solo corpo Domandiamoci Come viviamo Le nostre Eucaristie Le cene Del Signore Che facciamo Come le viviamo Se da corpo Di Cristo Quindi In cui siamo Fratelli Gli uni Gli altri Disposti A dare la vita Come Gesù Ha fatto Perché è questo Il corpo Di Cristo Cibarsi Di Lui Per diventare Come Lui Per essere Disposti A dare la vita Per i fratelli Oppure Se a volte Finiamo In un ritualismo Dove Non mi interessa Che è al mio fianco La mia comunità Dove vivo Dove vado Ma mi interessa Solo Ciò che sto compiendo E il mio cuore Rimane gelido Ma Gesù Non lo vuole Giovanni Il discepolo amato Lo ha scritto Giovanni 13 Da questo Sapranno Che siete Miei discepoli Certo Perché vi cibate Di me Nell'Eucaristia Ma soprattutto Perché da questa Eucaristia Voi attingete Amore Gli uni per gli altri Quindi segno Inconfondibile Che le nostre Eucaristie Sono Ne Signore Sono autentiche I frutti Amore Pace Gioia Comunione Nelle nostre comunità Spirito Santo Spirito Santo Noi vogliamo invocarti Per fare questa esperienza Nuova Incontrare Cristo Nell'Eucaristia Nell'Eucaristia Ciascuno di noi E converti il nostro cuore Alla carità E all'amore A te la gloria Nei secoli Dei secoli A me Cari amici Ecco lo slogan Di oggi In Cristo Siamo salvati La salvezza Viene solo da Cristo Dal suo corpo Mangiato da noi E formato Nella nostra comunità E quanto importante Avete visto Conoscere Gesù Gesù è una persona Se non la conosciamo Non ci possiamo Innamorare di Lui E ogni evangelista Come Giovanni Così sinottici Matteo Marco E Luca Ci presentano Il Gesù Che hanno sperimentato E che testimoniano Ecco Perché Da martedì sera Ogni martedì Di giugno Noi Vi proponiamo Il seminario online Gesù nei quattro Vangeli Per conoscere Incontrare Gesù Testimoniato Da questi evangelisti Per innamorarci di Lui E per vivere con Lui Iscrivetevi Sul nostro sito web Grazie per averci accolto Buona domenica ancora A domani Ciao Signore Ti ascolto Parla Signore Perché il tuo servo ascolta Parlami Signore Ti ascolto Mi Giugno Mi Grazie a tutti.